eccoci qua amiche e amici siamo qua in questo posto magico sacro di bali siamo a Tanalot adesso ci siamo fermati in questo prato abbiamo fatto un po' di meditazioni potenti quello è considerato l'holy hall e poi di là c'è il tempio di Tanalot che è considerato un portale per le dimensioni superiori stiamo aspettando che si abbassa la marea per andare a farci benedire dal monaco che c'è nel tempio che si può andare solo quando la marea è bassa a dopo eccolo il tempio questo è Tanalot è considerato un portale verso le dimensioni superiori e noi stiamo aspettando che la marea si abbassi si sta abbassando si abbasserà ancora tra poco andremo a farci benedire dal monaco l'energia pazzesca non c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti.